Questo progetto che coinvolge le due università, l'Università di Cosenza e l'Università di Parma, è un progetto sul bergamotto, le cui proprietà nutraceutiche sono ormai note e più. Questo progetto con questa bevanda, che fa azioni di prevenzione sul colesterolo, oltre che essere una bevanda gustosa, credo che sia un progetto da sottolineare. Oggi lo presentiamo perché noi riteniamo che attraverso l'esempio migliore questa terra noi la riusciremo a cambiare e ne modificheremo profondamente le abitudini. Una delle parole chiave dell'agricoltura del futuro sarà innovazione, tanto è vero che noi crediamo in questa misura, poiché la finanzieremo ulteriormente a breve con altri milioni di euro, perché riteniamo che altri progetti innovativi con approccio scientifico dovranno vedere la luce e dovranno fare in modo che le nostre aziende possano vincere o affrontare almeno quella che riteniamo la battaglia dei prossimi anni, quella della sicurezza alimentare. Bergamotto è un marcatore identitario della nostra regione che in particolare viene prodotto in una provincia, la provincia di Reggio Calabria, sul quale noi stiamo investendo con un bando per aumentare le produzioni per ulteriori 3 milioni di euro, che ha molteplici utilizzazioni dall'industria profumiera per le essenze alla industria farmaceutica come in questo caso e nell'azione di prevenzione con il succo, che è un succo prezioso, ma ripeto un succo che aiuta a stare meglio. La 16.2 è una misura del PSR che mette in connessione la ricerca di base fatta dalle aziende agricole con i collegamenti con l'università. La 16.2 genera delle ricerche fatte su prodotti agroalimentari, in questo caso particolare il bergamotto, e valuta gli aspetti nutraceutici o gli aspetti di agroindustria o altri aspetti inerenti, le possibilità di utilizzo alternativo di prodotti. Nasce da già una precedente collaborazione con l'università della Calabria, perché la bibita da noi commercializzata era già certificata dal laboratorio quasi ora per la presenza di flavonoidi, e successivamente in presenza di questi progetti abbiamo deciso di aderire in collaborazione con l'università della Calabria, ma anche con l'università di Parma, per la realizzazione di questo nuovo progetto, che appunto risulta essere estremamente innovativo, tantiché il risultato è primo in gradatoria, per andare a dimostrare l'inefficacia a quelli che sono i benefici del bergamotto. L'università della Calabria partecipa in doppia veste in realtà, sia come Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche, sia come infrastruttura di Ateneo Quasi Ora. L'infrastruttura di Ateneo Quasi Ora nasce con l'intento di dare supporto alle aziende dal punto di vista della ricerca, per incrementare la qualità dei prodotti agroalimentari calabresi. E noi intendiamo con questo progetto fornire un'indicazione di qualità, in questo caso alla bevanda dell'azienda Pratico, cercando di dimostrare che in realtà i nutraceutici presenti nel succo abbiano la capacità di limitare o comunque di contenere i livelli di colesterolo nel sangue, cosa che sarà fatta da uno studio clinico dell'Università di Parma. Il nostro ruolo è quello di condurre uno studio clinico, quindi su soggetti sani, randomizzato o controllato, quindi vuol dire che un gruppo di soggetti prenderà il succo di bergamotto, l'altro gruppo no e andremo a vedere alla fine studio, dopo tre mesi, quali saranno stati gli effetti soprattutto sul profilo lipidico, quindi sul colesterolo LDL, che sappiamo essere un fattore di rischio cardiovascolare molto importante.